Si è trasformata in tragedia quella che doveva essere una tranquilla gita al Lago Gibesi, a Naro, nell'Agrigentino, in compagnia di amici e parenti. Ali Marian Balan, rumeno di 42 anni e residente a Campobello di Licata, aveva partecipato a una grigliata e dopo pranzo aveva deciso di fare un bagno, ma a 60 metri dall'arrivo era scomparso nel lago e non era più riemerso. Lanciata immediatamente l'allarme da familiari e amici, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale, i sommozzatori di Catania e di Palermo, un'automulanza e l'elisoccorso del 118, mi è apparso subito chiaro che non ci fosse più alcuna speranza che l'uomo fosse ancora vivo. Dopo aver individuato il punto in cui si trovava il corpo, si è dunque dato il via alla ricerca della salma, recuperata nel cuore della notte, con i sommozzatori che hanno continuato a immergersi nonostante il sole fosse già calato. Secondo la ricostruzione dei militari, che hanno ascoltato amici e parenti del 42enne, l'uomo avrebbe nuotato fino al centro del lago Gibesi, grande circa quanto un campo sportivo, e tornando verso l'arriva si sarebbe inabissato senza più riemergere.